Lettera 25 Lady Susan a Mrs. Johnson, Churchill Ti scrivo, cara Alifia, perché ti congratuli con me. Sono di nuovo allegra e trionfante come al solito. Quando ti ho scritto l'altro giorno ero davvero molto irritata e ha ragione. In effetti non so se ora dovrei essere molto calma perché ripristinare la pace mi ha obbligata a sottomettermi più di quanto avessi mai voluto. Reginald ha un carattere orgoglioso che deriva anche dal fatto che si crede di possedere un'integrità superiore particolarmente impertinente. Non sarà facile per me perdonarlo, te lo assicuro. Stava per lasciare Churchill. Avevo appena finito la mia ultima lettera quando Wilson mi diede la notizia. Mi resi conto che dovevo fare qualcosa immediatamente perché non avrei lasciato la mia reputazione alla mercè di un uomo dalle passioni così violente e rancorose. Lasciare che se ne andasse con un'impressione così sfavorevole nei miei confronti sarebbe stato come mettere a repentaglio la mia reputazione e in quest'ottica era necessario essere accondiscendente. Ho mandato Wilson a dirgli che volevo parlargli prima che partisse e è arrivato subito. I sentimenti di rabbia che hanno segnato ogni suo tratto quando ci siamo separati per l'ultima volta si sono ammorbiditi. sembrava sorpreso che l'avessi mandato a chiamare e sembrava che per metà desiderasse e per metà temesse di essere ammorbidito dalle mie parole. Se il mio volto esprimeva ciò che intendevo era calmo e dignitoso ma con una certa aria pensierosa che poteva convincerlo di quanto non fossi molto felice. Vi chiedo scusa signore se mi sono permessa di chiamarvi dissi ma poiché ho appena saputo della vostra intenzione di lasciare questo posto oggi credo sia mio dovere pregarvi di non abbreviare la vostra visita nemmeno di un'ora a causa mia. Mi rendo conto che dopo quello che è successo tra noi non sarebbe comodo per nessuno dei due rimanere ancora sotto lo stesso tetto. Un cambiamento così grande e radicale nella nostra intima amicizia renderebbe qualsiasi rapporto futuro la punizione più severa e la vostra decisione di lasciare Churchill è certamente coerente con la nostra situazione e con quei sentimenti vivaci che so che provate ma allo stesso tempo non mi piace obbligarvi a fare il sacrificio di separarvi da parenti a cui siete così legato e che vi sono così cari. Il mio soggiorno qui non può offrire ai signori Vernon lo stesso piacere del vostro e forse la mia visita è già troppo lunga. La mia partenza, che deve avvenire in ogni caso presto può quindi essere anticipata senza inconvenienti e chiedo in particolare di non essere lo strumento per separare una famiglia così strettamente unita dall'affetto. Il luogo in cui vado non è importante per nessuno e molto poco per me ma voi siete importante per tutti i vostri parenti e con questo ho concluso e spero che siate soddisfatto del mio intervento. L'effetto che ha prodotto su Reginald giustifica un po' di vanità perché non fu meno favorevole che istantaneo. Ah, che piacere! Osservare i cambiamenti nel suo volto mentre parlavo vedere la lotta tra il graduale ritorno della tenerezza e i resti dell'antipatia. C'è qualcosa di piacevole nei sentimenti che sono così facilmente manipolabili. non che li si invidi non si vorrebbe possederli per nulla al mondo ma sono molto comodi quando si vuole influenzare le passioni di un altro. Eppure questo Reginald che poche mie parole avrebbero subito ammorbidito e sottomesso rendendolo più docile più affezionato e più altruista che mai mi avrebbe abbandonata alla prima ferita del suo cuore presuntuoso senza degnarsi di cercare spiegazioni. Umiliato come ora non posso perdonargli una tale dimostrazione di orgoglio e dubito che non dovrei punirlo licenziandolo subito dopo questa riconciliazione o sposandolo e deridendolo per sempre. Ma queste misure sono troppo spietate per essere prese senza riflettere. Al momento sono indecisa tra vari progetti ho molte cose da calcolare. Devo punire Frederica in molto severamente per aver chiesto l'aiuto di Reginald. Devo punire lui per averla ricevuta così favorevolmente e per il resto della sua condotta. Devo tormentare mia cognata per l'insolente aria di trionfo nel suo sguardo e nei suoi modi da quando Sir James è stato congedato perché nel riconciliarmi con Reginald non ho più potuto salvare quello sfortunato giovane e devo fare ammenda a me stessa per le umiliazioni che ho dovuto sopportare in questi giorni. Per realizzare tutto questo ho diversi progetti ho anche intenzione di tornare presto in città e qualunque sia la mia decisione sul resto probabilmente porterò a termine questo progetto perché Londra sarà sempre il campo di azione più appropriato qualunque sia il mio obiettivo. E in ogni caso lì potrò godere della tua compagnia e di un po' di dissipazione dopo la punizione delle dieci settimane scorse a Churchill. Credo che sia nel mio stesso interesse portare a buon fine l'unione tra mia figlia e Sir James dopo un così lungo periodo di pianificazione. Fammi sapere se la tua opinione è favorevole su questo punto. La flessibilità mentale è una predisposizione facilmente manipolabile degli altri e una caratteristica che come sai non desidero acquisire. né Frederica ha il diritto di pretendere che i suoi capricci siano soddisfatti a spese degli interessi di sua madre. Come il suo inutile amore per Reginald sono sicura che è mio dovere toglierle dalla testa queste sciocchezze romantiche pertanto tutto considerato beh ritengo opportuno portarla in città e darla subito in sposa a Sir James quando la mia volontà contraria alla sua sarà compiuta avrò acquisito un certo merito nel mantenere un buon rapporto con Reginald che al momento in effetti non godo infatti sebbene sia ancora mio ho rinunciato all'argomento del nostro litigio e l'onore della vittoria è a dir poco dubbio mandami la tua opinione su tutti questi argomenti mia cara Alicia e fammi sapere se puoi trovarmi un alloggio a breve distanza da te la tua amica Susan Vernon lettera 26 Mrs. Johnson a Lady Susan Edward Street ho ricevuto la tua lettera con soddisfazione e il mio consiglio di venire in città senza perdere tempo ma di lasciare Frederica a Churchill sarebbe molto più pratico per te sistemarti sposando il signor de Cursey piuttosto che irritare lui e il resto della famiglia costringendo tua figlia a sposare Sir James dovresti pensare più a te stessa e meno a tua figlia non ha alcuna tendenza a sposare Sir James non ha alcuna tendenza a farti fare bella figura con il mondo e a Churchill con i Vernon sembra sentirsi perfettamente nel mondo che le piace ma tu sei fatta per la società ed è un peccato per te essere esiliata in campagna lascia dunque che Frederica si punisca per il dispiacere che ti ha dato lascia che soddisfi quel tenero cuore romantico che le assicura sempre una sufficiente infelicità e vieni in città appena puoi ho un altro motivo per esortarti a farlo Manwaring è arrivato in città la scorsa settimana e nonostante mio marito Mr. Johnson Manwaring ha fatto del suo meglio per tentare di vedermi è assolutamente infelice a causa tua ed è geloso di decorarsi a tal punto che sarebbe sconsigliabile per entrambi incontrarvi in questo momento e se non gli permetterai di vederti qui non posso essere sicura che non commetterà qualche sciocchezza come andare a Churchill il che sarebbe terribile inoltre se segui il mio consiglio decidi di sposare The Curse sarà assolutamente necessario togliere di mezzo Manwaring e solo tu hai un'influenza sufficiente su di lui per riportarlo da sua moglie ho un'altra ragione per il tuo ritorno Mr. Johnson lascerà Londra martedì prossimo per motivi di salute si reca Bath dove se le acque sono favorevoli alle sue condizioni fisiche e ai miei desideri rimarrà con la gotta per molte settimane durante la sua assenza potremo scegliere la nostra compagnia e divertirci davvero ti chiederei di venire a Edward Street ma una volta mi ha obbligato a promettere più o meno che non ti avrei mai più invitata a casa mia nulla se non l'angosciosa mancanza di denaro avrebbe potuto strapparmela tuttavia posso procurarti un piacevole studio in Upper Seymour Street e potremmo stare sempre insieme lì o qui perché considero la promessa fatta a Mr. Johnson come comprendente solo almeno in sua assenza che tu non debba dormire in casa mia il povero Manwaring mi racconta ogni volta la gelosia di sua moglie che donna sciocca che si aspetta la fedeltà da un uomo così affascinante ma lei è sempre stata una sciocca una vera sciocca e lo dimostra il fatto stesso di averlo sposato lei è redditiera di una grande fortuna e lui senza un soldo ma avrebbe dovuto essere avere un titolo diverso da quello di moglie di un baronetto la sua follia nel formare quell'unione è stata così grande che sebbene Mr. Johnson fosse il suo tutore e io non condivida in genere le sue idee e non potrò mai perdonarla adieu la tua Alicia lettera 27 Mrs. Vernon a Lady de Cursie Churchill questa lettera mia cara madre ti arriverà da Reginald la sua lunga visita sta per finire ma temo che la separazione sia troppo tardiva per essere di qualche utilità per noi sta andando in città a trovare la sua amica intima Mrs. Johnson inizialmente era sua intenzione che Frederica l'accompagnasse a beneficio dei suoi studi ma l'abbiamo tenuta qui e la ragazza era distrutta al pensiero di andarsene non poteva sopportare di essere alla mercè di sua madre tutti gli insegnanti di Londra non potevano compensare la sua perdita di benessere avrebbe anche temuto per la sua salute e in breve per tutto tranne che per i suoi principi e proprio lì penso che non possa essere danneggiata nemmeno da sua madre o dagli amici di sua madre ma con questi amici un insieme sconsigliabile non ho dubbi si sarebbe mescolata o si sarebbe trovate in assoluta solitudine e non saprei dire cosa sarebbe stato peggio per lei inoltre se sta con la madre è probabile che sia ahimè con Reginald e questo sarebbe il peggiore dei mali per lei qui col tempo ritroveremo la pace confido che con le nostre faccende quotidiane i nostri libri le nostre conversazioni con l'esercizio fisico i bambini e tutti i piaceri domestici che posso darle supererà gradualmente la sua infatuazione giovanile non avrei dubbi se fosse un'altra donna al mondo a disprezzarla e non sua madre non so quanto tempo Lady Susan resterà in città o se tornerà qui nell'invitarla non ho potuto essere cordiale ma se decide di venire la mia scortesia non le farà cambiare idea non appena seppi che i passi di sua signoria Lady Susan si stavano dirigendo verso di lei non potei trattenermi dal chiedere a Reginald se intendeva trascorrere l'inverno in città e sebbene fosse molto vago qualcosa nel suo sguardo e nella sua voce contraddiceva le sue parole niente più rimpianti disperata ho deciso di arrendermi e di accettare la realtà se presto vi lascerà per andare a Londra tutto per noi sarà finito con affetto Catherine Vernon lettera 28 Mrs. Johnson a Lady Susan Edward Street mia carissima amica è con grande dispiacere che ti scrivo si è appena verificato un evento molto spiacevole Mr. Johnson mio marito ha trovato il modo più efficace per tormentarci tutte e due immagino abbia saputo in un modo o nell'altro che saresti stata presto a Londra e subito ha avuto un attacco di gotta così forte da dover rimandare il suo viaggio a Bath se non addirittura annullarlo sono convinta che la gotta si manifesti o scompaia a suo piacimento è stato così anche quando ho voluto unirmi agli Hamilton per andare ai laghi e tre anni fa quando ero io a voler andare a Bath niente poteva indurlo ad avere un solo sintomo di gotta ho ricevuto la tua lettera e ti ho riservato un alloggio sono felice di sapere che la mia lettera ha avuto un tale effetto su di te e che The Curse è di nuovo certamente tuo fammi sapere subito del tuo arrivo e dimmi in particolare cosa intendi fare con Manwaring è impossibile per me dirti quando potrò vederti sarò molto limitata nei miei movimenti è un trucco così abominevole essere malato qui invece che a Bath che riesco a malapena a controllarmi a Bath e le sue vecchie zie si sarebbero occupate di lui ma qui è tutto sulle mie spalle e lui sopporta il dolore con tanta pazienza che non posso usare la solita scusa per perdere la calma sempre tua Alicia lettera 29 Lady Susan Vernon a Mrs. Johnson Upper Seymour Street Londra mia cara Alicia detestavo Mr. Johnson prima di quest'ultimo attacco di gotta ma ora la mia avversione per lui è di portata incalcolabile averti confinata come un'infermiera nella sua camera oh mia carissima Alicia che errore hai fatto a sposare un uomo della sua età troppo vecchio per essere manipolato e troppo giovane per morire sono arrivata ieri verso le 5 avevo appena finito di cenare quando Manwaring ha fatto la sua comparsa non nascondo il vero piacere che ho provato nel vederlo né il forte contrasto che ho percepito nella sua persona tra i suoi modi e i modi di Reginald con infinito svantaggio per quest'ultimo ho passato ancora un'ora o due a dubitare della mia decisione di sposarlo e sebbene fosse un'idea troppo infruttuosa e assurda per rimanere a lungo nella mia testa non mi sento molto ansiosa di risolvere la questione del mio matrimonio ne aspetto con molta impazienza il momento in cui Reginald come avevamo concordato sarebbe arrivato in città probabilmente lo costringerò a ritardare il suo arrivo con una scusa o un'altra non deve venire finché Manwaring non se ne sarà andato ci sono momenti in cui sono ancora in dubbio su questo matrimonio ah se il vecchio fosse morto non esiterei ma dipendere dai capricci di Sir Reginald non si addice al mio spirito libero e se scelgo di aspettare che ciò accada ho una scusa sufficiente al momento visto che sono passati solo dieci mesi da quando sono rimasta vedova non ho rivelato le mie intenzioni a Manwaring né gli ho permesso di pensare che la mia amicizia con Reginald sia qualcosa di più di un volgare flirt quindi è tollerabilmente tranquillo addio addio il mio alloggio mi ha deliziata sempre tua Susan Vernon lettera 30 Lady Susan Vernon a signor De Kersey a Perseymour Street ho ricevuto la vostra lettera e sebbene non abbia intenzione di nascondere il mio piacere per la vostra impazienza di incontrarmi trovo necessario rimandare il momento più a lungo di quanto avevamo stabilito all'inizio non giudicatemi sconsiderata per un tale esercizio del mio potere né accusatemi di essere instabile senza prima conoscere le mie motivazioni nel corso del mio viaggio di ritorno da Churchill ho avuto tutto il tempo di riflettere sullo stato attuale della nostra relazione e questa analisi mi ha convinta che finora abbiamo dedicato troppa poca attenzione alla nostra condotta che dovrebbe essere delicata e prudente i nostri sentimenti ci hanno spinte ad affrettarci in un modo che non è in accordo con le idee dei nostri amici o con l'opinione del mondo ci siamo impegnati in fretta e furia senza proteggerci ma non dobbiamo portare a termine l'imprudenza ratificando l'impegno mentre c'è tanto da temere che il nostro rapporto si scontri con l'opposizione di coloro da cui dipendete non c'è bisogno di rimproverare vostro padre per le sue aspettative di un matrimonio vantaggioso per voi quando una famiglia è così tanto possidente come la vostra il desiderio di aumentare i propri possessi se non è strettamente ragionevole è troppo comune per suscitare sorpresa o risentimento avete il diritto di chiedere come nuora una donna che abbia fortuna e mezzi a volte mi rimprovero per avervi permesso di entrare in una relazione così imprudente con me ma chi la pensa come me spesso riconosce troppo tardi l'influenza della ragione sono passati solo pochi mesi da quando sono rimasta vedova e per quanto io sia in debito con la memoria di mio marito per la felicità che è stato in grado di offrirmi durante gli anni della nostra unione non posso non pensare che l'indelicatezza di un secondo matrimonio così precoce mi sottoporrebbe certamente alla censura del mondo e provocherebbe cosa ancora più spiacevole per me un grande dispiacere a vostro padre col tempo potrei forse indurmi contro l'ingiustizia dei rimproveri in generale ma la perdita della sua preziosa stima come ben sapete sarebbe per me difficile da sopportare e se a questo si aggiunge la consapevolezza di aver fatto un torto a voi e alla vostra famiglia come potrei resistere con sentimenti così dolorosi come i miei la convinzione di aver separato il figlio dai suoi genitori mi renderebbe l'essere più infelice della terra pertanto sarà senza dubbio consigliabile rimandare la nostra unione fino a quando le prospettive saranno più soddisfacenti fino a quando le circostanze prenderanno una piega più favorevole penso che per rendere questa decisione più facile per noi sarà necessario separarci non dobbiamo vederci per quanto crudele possa sembrare questa frase la necessità di pronunciarla che non posso che accettare con forza vi sarà evidente quando avrete considerato la nostra situazione nella luce in cui mi sono trovata costretta a collocarla potete essere certo dovete essere certo che solo la più forte convinzione del dovere potrebbe indurmi a ferire i miei sentimenti sollecitando una separazione prolungata da voi e non credo che sospettiate che io sia insensibile ai vostri ripeto quindi che non dobbiamo non dobbiamo ancora incontrarci rimanendo a distanza di qualche mese placeremo i timori fraterni della signora Vernon che abituata a godere della ricchezza considera la fortuna necessaria a tutti e la cui sensibilità non comprende la nostra fatevi sentire presto molto presto ditemi che accettate le mie argomentazioni e non mi rimproverate per questo non sopporto i rimproveri il mio spirito non è così alto da essere represso devo cercare di divertirmi all'aperto e fortunatamente molti dei miei amici sono in città tra cui i menwaring sapete la sincera stima che nutro per entrambi marito e moglie la vostra sempre fedele Susan Vernon grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti